Allora ragazzi, partiamo a parlare un po' della partita di domenica, che si è riusciti a vincere faticando, però secondo me non si potrebbe fare meglio, un po' le condizioni del campo, un po'... Allora ragazzi, partiamo a parlare un po' della partita di domenica, che si è riuscita Allora ragazzi, partiamo a parlare un po' della partita di domenica, che si è riuscita allora 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 Allora